Da difficoltà a difficoltà per la gestione, disagi per migliaia di persone e danni per il turismo. La crisi dell'aeroporto di Trapani-Bigi sembra non avere mai fine ed ora si aggiungono altri problemi. Infatti restano al palo due bandi pubblici, il primo andato praticamente al deserto, il secondo con quattro partecipanti ritenuti non tutte all'altezza delle aspettative. Così adesso per salvare l'aeroporto di Birgi si tende all'ultima carta, quella della trattativa diretta con una serie di compagnie che potrebbero riuscire a manifestare un qualche interesse almeno per alcune delle rotte rimaste non assegnate. Il comune di Marsala, ente capofila tra quelli della provincia di Trapani, firmatari dell'accordo di collaborazione per lo sviluppo dell'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, ha così avviato la procedura negoziata per affidare i servizi di promozione turistica, voli da e per varie città italiane e straniere non assegnati nella gara d'appalto per mancanza di offerte da parte di compagnie aeree. I lotti assegnati con la gara sono stati soltanto tre, quelli relativi ai voli già garantiti da tempo, dai per Roma Fiumicino e Milano Linate dall'Alitalia e Torino da Blue Air. I lotti ancora da assegnare sono 22, riguardano sia regioni che paesi esteri. Dopo il primo bando queste rotte dovevano essere assegnate con una nuova gara alla quale hanno risposto solo tre compagnie aeree, un network di aziende di comunicazione. Con la compagnia di bandiera Air Marta qualcosa non ha funzionato e così si riparte con la procedura negoziata. Sono 31, si legge, in una nota del Comune di Marsala, gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento triennale dei servizi di promozione turistica. Il Comune di Marsala sarà la stazione appaltante responsabile della procedura negoziata per l'importo complessivo di 11 milioni e 100 mila euro, totalmente finanziata dalla regione siciliana. Il 7 giugno è il termine finale per la presentazione delle offerte. Con Marsala all'accordo di collaborazione ha aderito anche i comuni di Alcamo, Buseto Polizzolo, Calata Fimisagesta, Campobello, Custonaci, Castellammare, Famignana, Paceco, Salemi e Valderice.